Ciao a tutti! Oggi vi faccio vedere come decorare delle candele utilizzando degli smalti. Ci servirà soltanto una ciotolina con dell'acqua, degli smalti e le candele che vogliamo decorare. Procediamo. Prendiamo uno smalto e mettiamo alcune gocce dentro l'acqua. Con uno stuzzicadenti mescoliamo un pochettino, poi prendiamo la nostra candela e la immergiamo nell'acqua. La facciamo muovere un attimo. Ed ecco qua! Una volta tirata fuori avremo questo risultato. La mettiamo ad asciugare e nel frattempo proviamo a decorarne un'altra utilizzando questa volta due colori. Quindi utilizzerò di nuovo il rosso e questa volta aggiungerò anche del verde. Il procedimento è lo stesso, solo che questa volta metterò da un lato soltanto il rosso e da un lato soltanto il verde e poi con lo stuzzicadenti mescolerò i colori insieme. Ed ecco qua! Questo è il risultato! Dopo aver immerso le candele nell'acqua ed aver ottenuto l'effetto desiderato, le lasciamo asciugare all'incirca per 2-3 ore. Ovviamente ci si può sbizzarrire con la fantasia. Io ad esempio ho colorato soltanto la parte bassa della candela, ma volendo si può utilizzare una ciotola d'acqua più grande, più profonda, e immergere completamente la candela. Se l'idea vi è piaciuta, fatemelo sapere con un bel mi piace e lasciatemi un commentino se avete delle richieste particolari per qualche video. Adesso vi saluto, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e vi do appuntamento alla prossima idea creativa. Ciao! Ciao!